Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 21 gennaio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib. Iniziamo dall'indice italiano anche se quasi tutto è molto simile su entrambi gli indici. Sull'italiano abbiamo che se confermata avremo un'apertura di 155 punti sopra la chiusura di ieri e quindi attorno ai 22.770 punti qua e quindi sta andando tutto come da previsioni. Attenzione che ieri abbiamo visto una variabile tra DAX e MIB. Qui abbiamo avuto la partenza del terzo T-3 e non abbiamo ancora avuto la chiusura perché qui siamo arrivati a 19 barre e un T-3 non può durare, non è così poche. Mentre invece su DAX, come vedete, siamo arrivati a 24 barre e poi è partito il quarto T-3 che ha spinto verso l'alto e che quindi ha costretto a una deviazione in 19esima candela se non mi ricordo male, su minimo 24-23, ok sì, ha costretto a risalire quando bisognava andare a chiudere e andare a fare una discesa per la chiusura appunto del T-3 e magari chiudere anche questo l'ap-up. Peraltro, tutto impostato a punto rialzo come detto negli scorsi giorni, le due medie mobili provano, anche se c'è stata una deviazione, a girarsi in Golden Cross e quindi alto segnale positivo. Noi che cosa dobbiamo fare però operativamente se apriamo già cose in alto? Uno, andremo a vedere il tempo sull'inverso per capire entro quanto tempo può iniziare a scendere per poi eventualmente ricomprare un Long. Qui il nono T-3 inverso è arrivato a 31 barre su al massimo 44 quindi potrebbe provare a continuare a salire fino a mezzogiorno. Dopo che avevamo fatto un massimo però andremo a chiudere perlomeno appunto il T-3 inverso e avremo discesa e 1, 2, 3 e 4 un movimento di un T-1 inverso ci porta verso l'eventuale e spinta verso il basso più forte che quella per un semplice T-3 inverso. E nel caso appunto dopo il top iniziassimo a scendere dovremmo andare a chiudere il terzo T di indice oppure anche qualche cosina di più perché sappiamo che un T-1 di indice può eventualmente avere una durata a tre tempi e non a quattro. Tutto confermato, ok? Altra cosa qui sta partendo un terzo T che per ora ci dice soltanto appunto che abbiamo un settimanale che prova a spingere ma è il terzo e quindi sappiamo che potrebbe dar vita a un secondo T-1 e quindi la spinta verso l'alto e verso questi top potrebbe essere durare anche serenamente almeno oggi. Attenzione però che l'inverso siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giorni e che quindi siamo già oltre la durata media di un T inverso di un settimanale inverso e quindi ci potrà essere dopo questa spinta rialzo una bella spinta appunto a ribasso se volesse chiudere proprio con la candela di oggi o se andasse a chiudere con il massimo che faremo oggi dopo l'apertura entro le 12. Che cosa ci dice invece su DAX? Su DAX potenzialmente siamo andati a far partire persino un decimo T-3 inverso questo a quanto è arrivato come tempo siamo più avanti sul DAX qui serenamente potrebbe avere chiuso qui abbiamo la condizione minima per la partenza di nuovo inverso se apriremo appunto come già detto verso l'alto avremo l'undicesimo eventuale T-3 inverso già completamente vincolato al rialzo e questo però ci dirà che il rialzo almeno su DAX potrebbe se qui partisse ripeto e qui abbiamo un paio di indicazioni interessanti sulla partenza potrebbe durare come al solito come minimo 21 barre l'indicesimo T-3 inverso e quindi potremmo andare come minimo attorno alle 12.45 all'una se non estendere poi per tutto il tempo che volete perché nella realtà di fatti nulla ci vieta di andare fino a 32 o a 43 barre di salita per cui attenzione a questo attenzione che stiamo per andare in golden cross e quindi essendo però già arrivati al quarto T-3 ricordiamoci che dopo il top andremo molto probabilmente a chiudere il T-1 e quindi ci potrà essere forza a ribasso dato che il DAX è molto più correlato all'SMP500 e loro comandano l'SMP500 comanda quindi eventualmente se continuerà ad esserci diciamo una certa correlazione il Futsunib seguirà potrebbe chiudere appunto a 3T-3 il suo primo T-1 vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata e vi ringrazio